Grazie a tutti voi che amate l'arte, la cultura, la bellezza e naturalmente anche la collezione Peggy Guggenheim. Grazie per aver continuato a sostenerci e averci fatto sentire il vostro affetto in questi tempi non semplici. Per essere venuti o tornati a trovarci quando è stato possibile, per partecipare anche a distanza alla vita del museo, per seguirci pieni di entusiasmo sui nostri canali social e non solo. Grazie per aver condiviso con noi le vostre idee, pensieri ed emozioni. Non vediamo l'ora, quando si potrà, di tornare a darvi il benvenuto alla collezione Peggy Guggenheim. Oggi più che mai desideriamo dirvi grazie di cuore e augurarvi tutti insieme buone feste! Grazie! 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 Grazie!